Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Dopo un incontro con i lavoratori delle province, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità una mozione sulla tutela dei posti di lavoro e dei servizi offerti dall'Ente. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità dei 17 consiglieri presenti una mozione, firmata da tutti i capigruppo, che impegna la Giunta regionale a promuovere presso tutte le sedi competenti un'azione incisiva tesa al mantenimento degli equilibri di bilancio, alla tutela dei posti di lavoro delle province e all'efficienza dei servizi erogati alla comunità regionale. L'atto di indirizzo è stato elaborato dopo l'incontro con una delegazione dei lavoratori delle province di Perugia e Terni, durante il quale l'assessore Luca Barberini ha comunicato gli esiti della ricognizione sul problema effettuato dall'esecutivo regionale. 181 lavoratori delle province potranno essere trasferiti in regione, altri 40-42 lavoratori potranno essere collocati in altri enti regionali, fra i quali 20 o 22 nella sanità. Per i centri per l'impiego si conta di arrivare a una soluzione entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda i lavoratori della Polizia provinciale, ci sono comuni, ha detto l'assessore Barberini, che hanno manifestato interesse ad assumere questo personale che sarebbe escluso dalle limitazioni previste dal patto di stabilità. Punto centrale, ha ribadito Barberini, è che nessuno perderà il lavoro e i cittadini, anche quelli delle sedi periferiche, non perderanno i servizi, in futuro magari ubicati in sedi meno onerose per abbassare i costi degli affitti. L'Aula di Palazzo Cessaroni ha approvato un documento per mettere fine alle sanzioni contro la Russia. Superare le sanzioni alla Russia per fornire aiuto al tessuto produttivo Umbro. Questa è la proposta di risoluzione approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa dell'Umbria su proposta dei consiglieri regionali Raffaele Nevi, Forza Italia e Gianfranco Chiacchieroni, Partito Democratico. In questo modo, si legge nel documento, l'Umbria si pone nel solco della tradizione di regione di pace e di dialogo, auspicando un modello inclusivo nell'affrontare e gestire le crisi umanitarie. L'atto punta anche a rivendicare in conferenza Stato-Regioni e in Commissione Affari Europei ed Internazionali, di cui la Presidente Marini è responsabile, un maggior ruolo dell'Europa nel facilitare il dialogo tra Stati Uniti e Russia, elemento imprescindibile per la stabilità e prosperità della stessa Europa. Con la proposta si chiede anche l'istituzione da parte della Commissione Europea di un fondo comune speciale tra gli Stati membri per ammortizzare le ingenti perdite degli imprenditori colpiti dalle contromisure russe alle sanzioni, di monitorare l'impatto delle sanzioni sul tessuto produttivo regionale ed in particolare per le piccole e medie imprese, di sostenere con bandi regionali le attività commerciali di marketing e promozione delle imprese umbre operanti in Russia per evitare che perdano quote di mercato. Un intervento sempre più necessario alla luce di allarmanti dati che le sanzioni alla Russia procurano sull'economia. Un danno per l'industria italiana di 2 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, con un crollo dell'export Umbro verso la Federazione Russa che ha visto un calo del 14% nel primo trimestre del 2015. Lasciamo l'aula per addentrarci nell'attività delle commissioni consigliari permanenti. La prima commissione presieduta da Andrea Smacchi ha affrontato il tema delle modifiche e integrazioni al regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nell'ultima seduta sono state illustrate le proposte dei consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle per rendere pubbliche le sedute delle commissioni consigliari e quella del consigliere Claudio Ricci per lo spostamento del tema beni e attività culturali in seconda commissione. In particolare il consigliere Liberati ha spiegato che la proposta del Movimento 5 Stelle punta a rendere effettivamente pubbliche tutte le riunioni delle commissioni permanenti attraverso l'installazione di sistemi audiovisivi per la diretta streaming, ma anche consentendo alle persone che lo richiedono di poter assistere alle sedute. L'obiettivo è quello di dare piena trasparenza al lavoro che viene fatto e abbattere, spiega Liberati, la distanza tra i cittadini e il palazzo. La seconda commissione consigliare ha deciso di non esprimere il proprio parere sulla proposta di referendum abrogativo in materia di trivellazioni per la ricerca di idrocarburi. Ce ne parte in questo servizio Alberto Scattolini. La seconda commissione, nonostante prese di posizione chiare da parte di tutti i commissari presenti, come ha spiegato il presidente Giuseppe Biancarelli, ha sospeso su proposta dei commissari della maggioranza il proprio parere finale sulla proposta di referendum abrogativo che tratta la materia relativa alla ricerca, le trivellazioni di idrocarburi e che interessa alcune parti dell'articolo 38 del decreto legge Sblocca Italia del 2014 e di norme adesso correlate dell'articolo 35 del decreto sviluppo del 2012. La commissione era chiamata a dare obbligatoriamente il proprio parere propedeutico all'approvazione dell'atto da parte dell'aula, il cui termine ultimo era fissato per la seduta dello scorso martedì 29 settembre, visto che entro il 30 scadeva la possibilità di presentazione delle adesioni delle regioni alla proposta di referendum. Attraverso la consultazione popolare, le regioni mirano a recuperare ruolo e competenze rispetto allo Stato, che attualmente può disporre di autorizzare sia la prima fase della ricerca, le trivellazioni e poi eventualmente della concessione di coltivazione di idrocarburi, petrolio e gas naturale. Il portavoce del centrodestra e liste civiche, Claudio Ricci, ha rimarcato la volontà della sua coalizione di aderire alle procedure per l'indizione del referendum, come hanno già fatto numerose regioni italiane. Il referendum è molto importante, ha detto, in quanto con esso si vuole mantenere in capo alle regioni la possibilità, secondo la volontà delle comunità locali, di intervenire in modo cogente nelle autorizzazioni minerarie, senza che lo Stato abbia l'esclusiva potestà di decidere. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati, punta il dito sul disordine con cui il Partito Democratico ha affrontato il rilevantissimo tema delle no alle trivelle, prima in commissione e poi in conferenza dei capigruppo, trascinando nel suo baratro, ha detto Liberati, anche quella significativa parte della maggioranza che, come noi, aveva già sottoscritto la richiesta di un referendum che il PD stesso, per tramite del Presidente dell'Assemblea, Donatella Porzi, aveva correttamente proposto ai consiglieri nei giorni scorsi. Infine, per il capogruppo del Partito Democratico, Giacomo Leonelli, la questione del referendum è una strumentalizzazione politica da parte della minoranza che fa sorridere. È di tutta evidenza il fatto, spiega Leonelli, che l'Umbria non abbia tratti di costa né per la verità sia oggetto di esplorazioni petrolifere il suo territorio. In Commissione Sanità e Servizi Sociali passa all'unanimità la mozione sui disturbi del comportamento alimentare. La terza commissione consigliare presieduta da Tilio Solinas ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta a verificare il livello di assistenza nel territorio regionale e, in particolare, nel territorio del Comune di Perugia, dei servizi residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali che operano nel diagnosi, cure assistenza dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare e a procedere attraverso le soluzioni previste dalla legge, nel dare risposte immediate al fenomeno, sempre più in aumento. I disturbi del comportamento alimentare, si legge nell'atto, sono patologie serie e gravate da consistenti indici di mortalità, rappresentano una problematica clinica complessa che può essere curata solo attuando un modello terapeutico multidisciplinare, altamente qualificato e integrato. Nell'organizzazione del sistema sanitario regionale sono adottati livelli di assistenza e cura mediante servizi che operano in rete, con ambulatori dedicati, centri di riabilitazione residenziale e semiresidenziale, fino ai posti letto per il ricovero per i casi acuti, ma risultano carenti nel territorio del Comune di Perugia, dove insiste un bacino di utenza di circa 170.000 abitanti, mentre operano da tempo, anche nel territorio di Perugia, associazioni convenzionate che offrono servizi residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali, che si fanno carico della complessità del problema, avvelendosi di equip multiprofessionali. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche sul sito internet del Consiglio regionale e in rete su YouTube. Grazie per averci seguito. Grazie per aver guardato il video.